allora ciao a tutti allora partiamo allora in questo filare l'ho fatto l'anno scorso quindi ve lo volevo far vedere perché vedete le piante un po un po più piccole allora questo l'ho messo a livello molto intensivo nel senso che avevo tante piantine e ho messo una piantina di more queste sono more senza spine allora fate tutte le domande che volete chiedetemi tutto non fatevi provare qualsiasi cosa anche le più ovvie siamo qua per per parlare ok queste sono more senza spine fanno dei frutti rossi nelle classiche more sono state selezionate chiaramente quindi fanno frutti molto più grandi di quelle che trovate nei rovi classici ok e poi fanno sono molto più dolci queste qua questa qua la piantina che c'era due anni si sono riprodute tutte io se vi faccio vedere come se riproducono è molto semplice tutto quello che vedete qua ne ho presa magari tre o quattro per iniziare un po su subito e un po da un da un vivaio piantine piccole e poi me ne sono riprodotte è molto molto facile adesso vi faccio vedere semplice questi sono lamponi invece ok i lamponi allora le more e sono tutte unifere fa una volta e basta c'è solo la varietà che le fa due volte non ce l'ho però queste qua sono diciamo le migliori ce li ho con le spine senza spine meglio senza spine chiaramente perché potare quella roba è la e poi sono molto molto vigorosi infestanti li fanno dappertutto eccetera quindi mora qua ho messo una mora e un lampone quindi mora e a 50 cm un lampone e a circa un metro una mora se avete spazio li potete mettere anche un metro e mezzo le more ok qua le ho messe molto vicine perché c'avevo tante piantine non sapevo più dove metterle ne ho fatti vabbè ne ho fate tante eccetera i lamponi invece ci sono uniferi e rifiorenti allora cosa vuol dire vuol dire che gli uniferi producono una volta e basta producono di più l'unica volta che fanno e maturano circa fine maggio inizio di giugno dipende dalle varietà perché ho tante varietà qui non ne ho solo una e e li riconosciamo perché adesso questa piantina qua non si vede dopo la vediamo nelle altre i uniferi fanno sul solo sul tralcio di due anni e mentre i rifiorenti fanno anche sul tralcio di un anno cosa vuol dire ma facciamo un esempio allora questo è seccato ok adesso questa piantina qua è piccola provvediamo meglio questa qua la parte secca quindi questa quella parte diciamo che ha prodotto quest'anno secca sia la mora sia il lampone seccano cioè loro producono e poi secca il tralcio e poi viene sul nuovo qua si vede bene allora ci sono i topi nambu qua che sono infestanti allora questo qua è il lampone ok qua si vede bene questo è il tralcio secco quindi che ha due anni lo vedete alla base si vede bene allora questo è quello di quest'anno vedete questo qua è un rifiorente perché questo l'ha fatto quest'anno questo vedete il legno nuovo se non capite ditemelo eh non ha nessuno ha fatto una domanda se ce l'ho io avevo già fatto i dieci vi chiaro tutto mi raccomando questo è la parte di quest'anno ok nel rifiorente a settembre agosto settembre fino alle prime gelate fai i lamponi cioè fiorisce fai i lamponi qua non li ha fatti perché c'è stato molto caldo c'è questo problema qui a meno se vizzano da me e il problema è che c'è tantissimo caldo e quando ci sono 40 gradi soffrono cioè i lamponi andrebbero messi cioè a 800 metri che c'è meno caldo piove di più qua non piove qua piove magari fa piove a maggio poi dopo fino a settembre non viene anche una goccia non fa niente comunque questo qua rifiorente quindi è fiorito sul tralzo di un anno e ci mangi i lamponi lo stesso anno che caccia cioè in pratica lui ricaccia e ci mangi i lamponi a mettiamo a agosto da agosto a settembre ottobre mentre l'unifero lo fa l'anno dopo su questo cioè lui praticamente anche questo dopo rifiorisce sempre su questo a maggio però l'unifero fiorisce solo e fa i lamponi solo una volta però gli fa più grossi cioè cresce di più dopo ve li faccio vedere là sono più alti più grandi eccetera questo qua è la parte secca che noi dobbiamo togliere ma ci vorrebbero i guanti dopo me li metto adesso ma questi non è un problema questo qua vedete sono i tralci i tralci secchi ok quindi se non li tiri via la pianta soffre no è meglio toglierli perché se no perché il lampone praticamente è una ceppaia come la mora cioè la parte aerea conta poco è la ceppaia fa tutte le radici nella zona e poi il lampone tende a ricacciare molto è un infestante ai primi anni cioè va delimitato bene ci vanno fatti dei filari è importantissimo io li ho fatti così perché li ho visti su internet ho letto dei libri poi alcuni di voi ho mandato la dispensa chi non gli è arrivata mi scrive gliela mando praticamente questi qua sono dei filari con dei fili paralleli ho fatto dei tenditori di ferro e sono stati montati questi fili e poi ho messo un adesso ci sono dei tenditori questi qua li ho tirati a mano gli altri sono dei tenditori che li tengono un po' tirati perché il lampone è molto fragile la mano non ha problemi però il lampone se fa così si spacca quindi vanno sempre o si tengono continuamente legati altrimenti altrimenti vanno messi questi fili in modo che li delimitano dopo di là lo vedete bene perché questi sono queste sono ciao questi sono più grandi dopo li vediamo e queste qua sono le more allora vi voglio far vedere come si riproducono le more tanto che siamo qua allora le more allora qua si vede bene infatti sono venuto qua Dario prendi la vanga ok allora qua si vede bene la riproduzione delle more questa è la mora di quest'anno è andata l'ho fatta andare su apposta non l'ho tagliata lei dove tocca terra come lei fa le radici ok adesso provo cavallo a mano viene questa è una piantina tagliamo pronti l'ha interata un po' e vegeta da rovescio la mora cioè non ha problemi cioè le giame al contrario lui dopo le ricaccia e questa è una piantina cioè già fatta dopo Stefano prendete la sua ok dopo se ce ne sono tante le dividiamo un po' e poi questo qua lo potete tagliare dopo vediamo dopo vi faccio vedere la potatura bene perché queste qua sono piccole non si vede niente ok l'importante che vi sia chiaro come si riproducono cioè basta basta prenderle interrarle perché loro fanno adesso qua non si vede bene ma di solito in quella si vede meglio fanno tutti i rami laterali dopo qua si vede bene queste qua sono più grandi fanno tutti questi rami qua laterali perché questo è il traccio vedete questa qua come è già diversa questa qua c'è 4 5 anni ok lei ricaccia questi dove toccano la cena in alta qua toccato già due cioè per dire se uno c'è natante poi però qua radicano la svelta perché c'è un sacco di pacciamatura ok cioè se c'è la pacciamatura e c'è il terreno soffice molto più facile altrimenti le prendete se volete fare delle piantine le potete coricare così fate magari un date due vangate mettete sotto io per i miei anni facevo così io li mettevo dentro i vasi ma è un po più ci vuole un po più di tempo altrimenti fate due vangate le mettete lì e loro fanno le radici e dopo portate le piantine e adesso adesso della polizia feri che la fanno da sole è chiaro che ci vuole un'umidità il terreno un po umido e le fanno queste qua sono ceppai che ci hanno le prime che ho messo queste qua ce l'hanno 5 anni e qua si vede bene queste queste sono i talci nuovi questo è quello che ha fatto quest'anno poi non vanno tutte a maturazione perché c'è molto secco ma e ce ne avevano ma si vede è chiaro che quando c'è così caldo dopo non riescono a maturare tutte ma dopo uno li raccoglie vengono molto scalare le more cioè non è che sono i lamponi bene o male fanno tutti insieme e poi i lamponi ma raccolti in poco tempo perché sono molto acquosi fanno d'acido e invece le more magari uno gestisce un po meglio e dopo vediamo come poterle però si vede si vede bene la parte vecchia questo e a parte che è secco lo vedete cioè vedete è secco cioè si vede già d'occhio dopo comunque lo vediamo la portatura e lui dove tocca qua questa qua per dire aveva toccato l'anno scorso si vede che nel toglierla non è venuta ma adesso ci diamo due vangate Dario prendi la vanga ci diamo due vangate vediamo se viene su sì ma però quando sta lì in anno è più difficile la toglia se uno la toglie subito è meglio perché questa qua questa qua dell'anno scorso probabilmente è rimasta lì l'ho tagliata si cambia molto la parte dove sei la parte radicale invece l'avete visto l'ideale farle sul momento si metti la commettila con quelle altre si però vedi che c'ha molto menardici cioè avete visto le alte bianche quelle la attaccano al cento per cento sono le annaffi appena e poi le fate tutte così queste sono tutte state fatte così piantine piccoli e uno le uno le per dire se lo leggo qua così ce ne vengono basta che tocca terra lui dove tocca le fa e chiaramente dopo d'inverno vanno potate vi faccio vedere e vanno legate qua così non è che lasciamo così allora poi passo vi spiego un po come ho fatto la vi faccio vedere un po vi spiego un attimino volevo farvi vedere comunque andiamo avanti col discorso qua del filare allora il filare come vi dicevo c'è questo qua è molto è molto intensivo però l'ideale metterli alle more a un metro e mezzo una dall'altra magari fate mettete dei fili anche più alti da arrivare a due metri mettete tre fili dopo nella dispensa da tutte le altezze ma tipo 80 un metro un 50 circa in modo da poterle legare se fate questo metodo qua le mettete dentro non scappano però a me è sempre meglio darci una coda e poi li tenete portate voi vi faccio vedere e questo qua e poi ho messo qua tutto il goccia a goccia per annaffiarle d'estate chiaramente e qua c'è una bella pacciamatura qua ho messo una pacciamatura che praticamente è cippato che mi sono fatto che c'è il cippatore quando vado a fare la legna magari i rami che non non brucia la stufa li ho cippati e li ho messi qua però potete farlo anche senza cippatura chiaramente magari non crescono come quelle però sicuramente viene un bel lavoro e adesso andiamo a vedere comunque vi volevo far vedere più che altro questo dettaglio qualche importante per i lamponi questo lo potete fare anche di legno se io l'ho fatto di ferro perché vabbè c'avevo del piatto eccetera e l'importante è che mettete dei fili in modo che che i lamponi non non si muovono troppo perché altrimenti si piegano e poi qua come dicevo c'ho il goccia a goccia altrimenti le annaffiate a mano l'importante è che all'inizio le annaffiate perché la pianta ha bisogno di crescere eccetera andiamo di là vi faccio vedere i lamponi si sono molto infestanti adesso vi faccio vedere ma guarda allora ti faccio vedere io un po li ho tolti qua per esempio qua c'è allora ecco allora ti faccio vedere allora io adesso io qualche piantina c'è e adesso la togliamo Dario veni con la vanga adesso le togliamo qualche d'uno e però se tu lo perché loro ricaccia molto quando sono piccoli quando sono giovani le piante dopo tendono a fare la ceppaia cioè i primi anni sì e poi chiaramente loro si allargano cioè loro vedete questo ha cacciato qua adesso per dire adesso venite qua che ce n'è uno che si vede bene ma indietro stefano questo qua questo qua ricaccia è da qua è andato qua no però questo qua è la piantina che possiamo usare se noi ci andiamo sotto no ci diamo con la vanga adesso vediamo se riusciamo adesso qua ci vorrebbero i guanti che ce li ho là ma per dire questa qua adesso andiamo a pulire così questa qua è una piantina infatti questa qua è già il lampone c'è la parte che ce l'ha su una mangiabile commestibile che vuole assaggiare non è tanto sono le mani tanto pulite ma per dire dopo uno la porta così questo qua la cipollina selvatica è una già la piantina se voi le lasciate le lasciate crescere qualcuna se no ci viene un infestamento incredibile le lasciate crescere qualcuna e dopo con la vanga quello lì la parte della terra chiaramente non ce ne freghiamo e e qua e qua qua per dire è venuta su una mora che si vede che ha toccato terra l'anno scorso è venuta su e chiaramente bisogna stare attenti perché sono molto infestanti come pianta quindi bisogna tenere un po' delimitata la zona magari uno ci passa perché io qua ho messo anche delle fragole non sapevo più dove metterle adesso non si vedono tanto ma c'erano delle fragole e allora allora vi spiego un po' come ho fatto questo allora questo l'ho fatto con l'altro c'è un passato con l'altro rotativo che è praticamente è tipo la zappa che ha messo dietro il motocoltivatore c'ha una cocla tra virgolette che gira così ok questa cocla praticamente è tipo un all'altro gira la terra da una parte la lancia diciamo da una parte ci sono un passato con questa una volta poi dopo una settimana un'altra volta poi ci ho fatto con la con la zappatrice quella classica e poi dopo ho messo giù i paletti qua ho messo uno questo è un tubo d'acqua non so se da tre qua no da mezzo da mezzo pollice dovrebbe essere da mezzo pollice e poi l'ho ganciato sopra con dei morsetti perché vabbè ho fatto già tutta stentatura perché ci ho messo i kiwi ma i kiwi continuano a gelare vabbè dopo oggi ho ho voltato tutto in lamponi e more c'è uno qua e poi vedete come vi dicevo i i tre i tre distanziali per i fili qua ci sono anche dei tenditori che avevo fatto io dei poveri e poi ho preso questi qua questi qua vanno bene questi qua in quadra il dettaglio questi qua uno di molla e poi ogni tanto li ti sono quelli da vigna diciamo di alluminio in modo che così già già quando crescono uno li da direzione non si spaccano questi qua per dire non si sono rotti cioè teatro del vento non sono mai stati legati questi e quindi conviene sempre legarli adesso infatti ne portiamo qualche pianta e lo andiamo legare eccetera e però già con questo con questo metodo che sono quelli dei professionisti diciamo fanno così gli impianti ma anche se sono piccolini se no stiamo molto vedendo si spaccano tutti così ritrovati tutti rotti per quando sono molto arbacei hanno 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 questo problema qua adesso ne portiamo una piantina o due e mi dovresti dare dario i guanti e e la varietà questo qua un glen lion non so se unifero rifiorente questi qua sono rifiorente si vede lo vedete vedete che c'ha i lamponi su sono secchi e poi ce ne saranno alcuni che non ce li hanno di solito quelli che crescono di più sono sono uniferi questi bellissimi allora stefano mettiti giù inquadra bene che se no non si vede niente allora questa qua è la ceppaia è la ceppaia di un lampone sono stati messi circa 40 centimetri gli ho messi poi poi ci sono un po poi se ne viene uno su qua ce lo lascio non è che sto lì l'importante è che fate un filare per avere la direzione e per poter contenere quelli che crescono di fiamma perché uno ci passa col taglia l'erba ci da un colpo o di cespugliatore se no ti vengono qua dopo infatti nel fondo ve li faccio vedere sono accanto al filo sono spostati anche di qua li ho lasciati che non dà fastidio e qua come dicevo c'è un sacco di pacciamatura cioè adesso qua adesso sta diventando tutta terra però ce ne ho messi di 15 centimetri e c'è quella bella terra qua perché e poi acidifica appena il terreno anche che i lamponi richiedono il terreno subacido cioè non come mirtillo americano che vuole proprio acido se appena appena acido è meglio infatti viene bene in montagna perché è il terreno un po acido ok e per dire adesso questo qua è quello che ha porto quest'anno è secco quindi tagliamo i secchi questo poi dopo li raccogliamo mettiamo qua questo qua secco via adesso di questi ne teniamo tre tipo tre vanno bene teniamo magari i più belli quelli che ci danno meno fastidio tipo questi tre qua e poi se sono rifiorenti guardiamo fino a dove ha fruttificato e andiamo sotto due o tre gemme così e poi dopo li leghiamo a raggera cioè nel senso li leghiamo tipo uno qua uno qua e uno qua in modo che ci giri aria prendano più luminosità i frutti vengono più belli eccetera adesso è secco allora l'ideale è usare il tubetto questi io adesso non ho pochi ma dopo useremo la corda quella da balloni sintetica perché ho quella lì comunque l'importante è farli cercare di legare al filo adesso qua qua tipo l'importante è fare un asolativo tipo così come ho fatto in modo che così non scorre perché se uno fa una corda normale un giro normale e si muovono subito e dopo tornano tutti in mezzo e poi lo legate così l'ideale sarebbe legare poi potarlo come ho fatto io adesso ne mettiamo uno qua tipo e poi lo mettiamo uno lo magari lo leghiamo qui alla gira così sempre facciamo sempre la nostra asola così e è meglio potare in primavera se io ve lo faccio vedere perché siamo qua però se portate in primavera meglio fate così perché il freddo nei tagli da fastidio è sempre meglio le potature andrebbero sempre fatte anche delle piante da frutta l'ideale è portare sempre a fine febbraio la vite no la vite va portata all'inizio di febbraio perché sennò piange lo sapete anche i kiwi i kiwi vanno portati piuttosto si dopo 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 piangono non va mica bene se avete mai portato le vite lo sapete invece i kiwi le vite invece le piante da frutta è sempre meglio aspettare un attimo secondo me perché perché non gela più come una volta ma se gira davvero questo qua si è rotto tipo adesso l'ideale era prima legale poi poterlo come ho fatto io cioè adesso adesso perché questo qua tipo ma beh ancora attaccato ma non è attaccato tanto bene comunque adesso facciamo facciamo diversamente dopo prima li li leghiamo leghiamo i belli poi quelli potiamo perché sennò succede che dopo o non è che cambia tanto perché fa molti più lamponi perché i lamponi loro cacciano qua si vede bene allora dove li fanno i lamponi i lamponi li fanno dalle dalle gemme dove sei dalle gemme cacciano e questo e poi fiorisce fai lampone lo fa sul sulla gemma quindi magari se ne ha meno magari ne caccia qualcuno più sotto chiaramente 3 3 vanno già bene poi dipende magari all'inizio se avete i lamponi piccoli lasciate uno se no non 50 che no perché dopo fa dei lamponi piccoli solito discorso ne faccia nata allora aspetta che mi prendo i guanti che se no mi distruggo le mie mani sono due o tre forbici però è semplice potarli una volta una volta capito proprio la tecnica base non è difficile cosa dipende da come dicevo prima gli uniferi ori fiorenti gli uniferi li fa solo coloramo dell'anno scorso ok l'anno prossimo che sono questo qua questo qua è una rifiorente perché l'abbiamo visti però l'unifero lo fa questo questo qua invece questi qua questo qua tipo secco lo togliamo sì questo qua secca l'unifero sì questo qua secca questo qua è secco vengono quasi via con le mani guarda che mettete i guanti per cacciare delle spine i lamponi che non vengono più via dopo questo qua secco bene ma basta farlo con calma basta guardare il colore bene o male l'importante importante importante togliere secco all'inizio voi magari fatto un giro torni di tutto il secco e poi cominciate pian pianino con calma e meglio lasciarne uno in meno che uno in più perché così magari fa i lamponi un po un po più grandi più più dolci tanto non è che dovete venderli quindi la quantità ok allora quindi qua per dire due quattro lasciamo non so io lascerei i più belli adesso li leghiamo per non fare brutte figure come prima passami secchio grazie quando tagli il secolo tagli più vicino alla terra si stai vicino alla ceppare si stai sotto più sotto stai meglio stai sotto tagli adesso dopo adesso chiamiamo qualche uno di voi che viene a potare io ho già idea chi chiamare e lo facciamo potare tanto così lo critichiamo allora questo qua così allora questo 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 qua per dire l'importante sempre fare la famosa asola così non si muove più questo se no altrimenti come dicevo prima dopo li trovate li trovate tutti attaccati questo qua lo mettiamo magari qua così e dopo ci tagliare le punte che non abbiamo ancora fatto così quello possiamo negare qua tipo l'asola grazie ok così adesso li spuntiamo andiamo un po sotto allora adesso l'abbiamo selezionati 3 1 2 e 3 questi questo lo togliamo questo lo togliamo adesso facciamo la pianta in mezzo che non l'abbiamo fatta andiamo a pulire questo l'abbiamo legato lo tagliamo andiamo sotto un po vicino al filo così e questo così tutto chiaro 3 adesso facciamo questo perché non l'abbiamo saltata quelle gemme qua lei ricaccia tipo adesso qua non avevo mica visto sono dei frutti e li potevamo venire più sotto ok ero stato troppo sopra non avevo mica visto che qua c'erano i lamponi questi a da fine maggio mentre la quindicina di giugno poi dipende le varietà adesso facciamo quello di là che abbiamo saltato così allora facciamo allora questo questo qua questo qua è piccolo lo togliamo tanto non ci serve niente abbiamo già legato 1 2 3 quindi lasciamo questi due qua sono vicini questo qua è rotto questo qua sia rotto qua lo togliamo e qua visto che in poi in mezzo magari lasciamo questi tre qua ne leghiamo uno qua uno qui l'importante è che dopo date sempre un'occhiata alle punte e tagliate questo qua non ancora legato quindi possiamo legare questo qua per dire questo qua così fate l'asola se riuscite così poi lo prendete l'importante è che li mettete alla gira come dicevo prima che giri aria hanno meno problemi di malattie eccetera non è che angosci pure di malattie cioè chiaro che se uno fa il professionista è diverso perché magari viene qualche lampone con con una parte bianco o marcisci un pochino prima si ha delle malattie però per uso per uso casalingo così non c'è problema ma sempre bene almeno per me e io li congelo per da mangiare a colazione nel senso li raccolgo dentro delle ciotole poi li metto dentro delle teglie inox in frin li lavo li metto dentro delle teglie inox in freezer quando sono ghiacciati che sono belli duri muovo la teglia con le mani li metto nei sacchetti e li congelo e poi io li mangio a colazione io li frullo però si possono mangiare anche così cioè sono però chiaramente sono più buoni raccolti però per conservarli magari una parte li mangiate subito però se ne avete un surplus cioè secondo me il mio consiglio è o fate la marmellata o io non l'ho mai fatta ma li ho sempre congelati eccetera e Dario vieni dai facciamo portare un po' Dario così lo guardiamo così dai vedete i guanci li hai? quelle non va bene i forbici usa quella lì quella lì non vale niente usa quella lì fate domande chiedete dopo facciamo provare anche qualcuno di voi bene sono quelle da vite ah quelle lì sono quelle da portare la frutta a doppio tagliente cioè sono esagerate va bene per le more per i ciepi grossi ma qua va bene quelle da vite le felco 2 per intenderci le classiche vai i cordini non ce ne sono lì dai comincia che ti prendo l'altra corda vai vai allora dove l'hai lasciata l'ideale è sempre usare quelli eh vai vai pota non ha paura non ti mangia mica anche se sbagli li addebiti a sul tuo conto allora il secco come sta facendo Dario prima di tutto devi guardare il secco bravissimo vedi bravo adesso lui si mette lì prima legali prima ti conviene legarli tagliali con la forbice poi dopo allora il mio consiglio è prendi i più belli nel senso seleziona subito i più belli cioè quelli che secondo te sembrano più grossi via pulizionati meglio devi lasciarne allora l'ideale era che facessi quella pianta qua prima perché allora li ho già legati no li ho già legati l'ho già fatta io adesso fai quella lì ok le selezioni per dire questo qua lo vedi che è brutto vedi che c'ha del legno io farai uno due magari questo e questo dopo lo tagli ok poi fai come vuoi eh non è che boh cominciate fatene qualche pianta se non la sentite ma io tolto il secco sì o togliete il secco se volete tanto da prendere dimestichezza l'asola ce l'hai fatta si muove così prova a farlo scorrere se scorre scorre e non va bene ma non preoccuparti che ce ne sono magari però quelle lì sono brutte di piante ma sono tutte secche perché ce n'è un pezzo lì che sono un po seccate vai magari più in alto la così come sta facendo Dario dopo lo tiri facciamo vedere bene l'asola sì faccio vedere l'asola ancora ma è semplice beh l'importante è che l'importante è che ci giri attorno due volte così l'importante è che una volta che ci hai girato due volte non si muove mica cioè l'importante è che sia molto deve essere stabile poi adesso la sto tirando un po' ma quando la tiri non si muove l'importante è che non si fa così via se no ok vai adesso li lega un po' a raggera come dicevamo prima in modo da averli questo qua è il risultato finale che vedete a raggera magari 3 per ceppaia poi ce ne sono di più o meno spinose lui fa i rametti piccoli non cresce più fa i rametti da fare i lamponi perché lui cresce fino adesso diciamo il tralcio nuovo il tralcio nuovo o fino a settembre dopo arrivato lì lui non cresce più ok dimmi lì pure no no lui dicevo che era dall'altra parte ah bobo ma adesso non ho più cipato niente perché ho cipato se no da metà adesso per un po' è posto dopo si diventa un po' compost questo ok si tiene umido così dopo ci viene una bella pacciamatura la pacciamatura sapete assorbe umidità la trattiene sotto qua c'è il goccia goccia questo qua è quella tipologia ad alla gocciolante però l'ho messa qua però io preferisco i gocciolatori classici quelli che si puliscono girate Stefano che vi faccio vedere uno cioè potete mettere questi qua se avete delle piante è sempre meglio mettere questi questa tipologia qua venite a vederli sono qua sono quelli che uno prendete il tubo non gocciolante il tubo quello nero poi ci c'è ci fai un buco c'è il col e si muovi quello lì quello lì è da 8 litri l'ora mi sa ok e lui tu mandi in pressione l'impianto c'è una pompa chiaramente tu mandi in pressione l'impianto a 2 bar un bar e mezzo e lui lui ti butta giù quell'acqua lì e perché il problema quelli di smonti li pulisci lo vi faccio vedere ci viene tutta perché è acqua di pozzo le bestie ci vanno a far dentro come in questo però qua l'acqua passa ancora e poi c'è questo c'è questo qua questa guarnizione qua e poi c'è uno scassino qui dove ho il dito uno scarico diciamo che in base alla grandezza di questo scarico lui ti fa tot litri infatti sono tutti uguali questi qua li ho presi in Cina dagli Espers costa una stupidata tipo 10 euro 200 si sono quelli dei poveri non sono quelli della club che prende Stefano però ormai uno le cambia perché ogni anno dopo io accendo l'impianto poi faccio un giro perché qua si vede venire Stefano e facciamo vedere questi qua qua si vede un bene dopo andiamo a filmare Dario che dopo sennò si sente escluso qua ce n'è uno di ceppaia li metti dove vuoi li metti dove vuoi tu prendi il tubo e poi è il vantaggio che li pulisci mentre l'ala gocciolante ci sono tutti i filtri a monte di questi ce ne ho messi due però si sporcano dopo si chiudono ciao invece questi qua uno fa in giro ogni tanto tu fai un giro accendi la pompa guardi viene non viene stacchi la pompa io lo faccio ad acquaccesa mi prendo delle bagnate assurde quando esce viene fuori la pressione tu li stacchi sviti questo lo pulisci con un filo sono gocciolatori regolabili non lo so autocompensanti sono cioè anche anche in discesa buttano sempre fuori la stessa dopo lascio le piante e li faccio vedere comunque queste piante hanno sempre bisogno di essere innaccate costantemente no allora io le annaffio chiaramente più le tiene annaffiate più la frutta buona e ne fa di più non di fa di più ne matura di più vedi che ne è seccata molto però se ci sono 40 gradi non ci fa niente però andrebbero annaffiate io le annaffio magari due volte a settimana e le annaffiate e le annaffiate e le annaffiate beh poco mezz'ora e non ho tanta acqua qua però conosco un amico di mantova lui lui c'ha un sacco d'acqua e ce la dà e c'ha più frutta c'è poco da dire ma tipo adesso in inverno no non serve niente adesso adesso c'è umido qua se tu metti prova il sistema qua di il profilo si può anche fare un po' semplice legarli si lo puoi fare però il problema adesso il problema è che devi sempre li a legarli perché loro crescono la svelta perché adesso tu li vedi cresciuti ma questi qua magari e poi ne ho tolti che ne erano qua ma se no ce ne viene la foresta si io li ho legati però potrei anche non legarli però però così è meglio ok sono dentro due fili e poi quando si muovono ci gira l'aria e la frutta viene più bella ok per i lamponi le more io le leggo ai passoni ci ho preso dei tubi quello che avevo ci ho messo ci ho trovato questi qua quando hanno fatto la linea della fibra trovavo in mezzo dei borchi dei rotoli e le ho tagliati ci ho pentato un tondino qua e poi l'ho messo solo da infatti qualcuno si spacca però per tenere su delle more va bene il lampone si spacca vediamo il lavoro che ha fatto Dario bravissimo Dario questi qua tagli sempre dietro ah no non ho posto ok perfetto così va bene anche troppi ce ne ha 5 ce ne ha anche troppi magari cioè lascia ce ne 3 4 perché non è che fanno più lamponi cioè fanno più lamponi però di minor qualità 3 3 massimo 4 e poi chiaramente hanno più forza per fare le ricacce l'anno dopo come in tutte le cose va bene e ne fai adesso ne raccoglievo un chilo un chilo al giorno per 20 giorni magari eh ma no ce ne ho mica solo qua ce ne sono tutti là anche qua ce ne sono un po' là in giro ma di more di more faccio i 3 kg al giorno e le more buttano le more fanno i lavori le more cioè fanno i frutti così e e questo è il lampone è il lampone Grazie a tutti.